La storia del liscio, ormai più che una serata di canzoni, sembra una puntata di Guar, che sembra Piero Angelo Voi sapete che le manguste si accoppino in autunno? Non hai visto Piero Angelo? Vabbè, a parte questo, tutto Pepe, e poi dopo ne fai ancora una delle tue Però questa la conoscete tutti quanti Il grande successo, uno dei più grandi, di Castellina Pasi Mia nonna diceva Caterina Pasi Beh, horror, eccolo Bravi, bravi così Abbiamo bisogno, dopo abbiamo bisogno della vostra collaborazione Guardate a fumare voi, bravi, bravi Allata Alla prossima! Adesso al prossimo giro state pronti che abbiamo bisogno del vostro accompagnamento con le mani. Pronti? Uno, due, tre, vai! Più forte, più forte! Adesso otta le mani, tutti insieme, dai! Ehi, 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 ehi! Pronti con il gran finale? Il vostro applauso, Marco Paolo! Grazie!